Bene, se mi date un po' di voce perché io ho qualche difficoltà vocale. Mi sentite? Bene, vi saluto tutti e tutti quanti. Credo che c'è qualche problema per raggiungerlo, ho avuto anche io, ho avuto fortuna, ma c'è un intasamento sull'autostrada incredibile da Belinzona Sud fino alla Ponte Diga di Melide, quindi presumo che altri arriveranno nel corso della serata. Io vi saluto, vi saluto anche le personalità presenti, sono parecchie, non vorrei fare delle gaffe, mi permetto un cenno per il Presidente del Partito Liberale Radicale Ticinese, mi permetto un cenno anche per chi ci ospica, dal direttore della RSI Maurizio Canetta. Questa ciclo di serate dedicate alla quando il leader è donna, presenta delle personalità femminili di peso, persone che hanno ottenuto delle posizioni di responsabilità in diversi ambiti della società, nell'economia, nella cultura, nelle istituzioni pubbliche e hanno delle responsabilità dirigenziali. Sono donne di primissimo piano ed è un'occasione privilegiata per conoscerle meglio, per porre loro delle domande, direttamente o per il tramite dell'amico giornalista Moreno Bernasconi. Ecco, vogliamo attraverso questo ciclo di serate mettere in luce queste esperienze femminili, capire come sono riuscite a emergere in situazioni spesso non facili, qual è il ruolo dirigenziale che hanno, quali sono gli ostacoli che hanno incontrato e tutto anche per riconoscere così i loro meriti. E riconoscendo questo loro percorso credo che lanciamo anche un segnale molto chiaro, cioè la nostra società deve volere avere più donne in funzione di responsabilità nei diversi ambiti. È anche un discorso che viene fatto all'interno della società svizzera di radio e televisione, con determinazione, sotto la direzione attuale di Gilles Marchand, si è anche costituita una rete specifica di donne che hanno delle responsabilità e che vogliono sostenere altre donne affinché aumenti il numero delle donne all'interno dell'azienda che assume delle posizioni di responsabilità. Ecco, a queste personalità chiediamo di loro, ma inevitabilmente, perché è anche il nostro ruolo, chiederemo qualcosa Moreno di servizio pubblico, di servizio pubblico radio televisivo. La realizzazione pratica di questo progetto, che è stato fortemente voluto dalla nostra segretaria generale Francesca Gemnetti, ci ha portati a collaborare con Moreno Berlasconi. Vorrei dire che senza di lui sarebbe oggettivamente difficile, soprattutto senza i suoi contatti, senza la sua rete di contatti, sarebbe difficile mettere in campo questo ciclo di serate quando la donna è leader. Quindi lo ringraziamo moltissimo per la sua esperienza, ma anche per i contatti che hanno consentito di avere delle ospiti di grande prestigio. Vi ricordo che prima di arrivare alla serata di questa sera abbiamo avuto la CEO della Carandache, una fabbrica che è nell'immaginario infantile di tutti noi, la signora Carol Upscher, abbiamo avuto un'ambasciatrice, Heidi Tagliavini, e abbiamo avuto quella che è chiamata la papessa svizzera dell'arte moderna, la storica dell'arte Bice-Kuriger. E questa sera è un grande piacere per avere con noi l'unica donna che è presidente di un partito di governo a livello nazionale, la signora Petra Gussi. La presenterà Moreno Brenasconi e quindi è conosciuta anche proprio per questo suo ruolo molto visibile nella politica nazionale. Io sono lieto di concludere con un annuncio, non è uno scu, ma comunque nel nostro piccolo è un bel annuncio, perché andiamo avanti con questi cicli di conferenze e in settembre, in date purtroppo ravvicinate, ma con determinate persone le date le scelgono loro, non le scelgiamo noi, avremo il 5 di settembre la presidente dell'Ugna, la signora Vania Alleva, e il 10 di settembre, quindi proprio pochi giorni dopo, l'ex consigliera federale Doris Leutert. Vi ringrazio per l'attenzione. Devo dire che sono molto toccato, signora Gussi, perché il giorno in cui il Consiglio federale, schierato con tre suoi membri, fa un annuncio così importante come quello della posizione sull'accordo nei confronti dell'Unione Europea, data che era nell'aria e dunque si sapeva che poteva accadere il 7 di giugno, lei è qui, nella Svizzera italiana, è un segno di stima per la Svizzera italiana che credo che sia straordinario. Grazie infinite di essere con noi. Grazie mille. Faccio una citazione. Petra Gussi, ma è la migliore presidente del mondo, chiuse le virgolette. Questo giudizio su di lei è stato dato da Ignazio Cassis ad un giornalista svizzero-tedesco che gli ha chiesto cosa pensava di lei. Come reagisce, signora Gussi, a questa dichiarazione d'amore politico da parte del nostro Consigliere federale? Ha ragione? Io non lo so, ma poi Ignazio Cassis è un amico, siamo stati seduti vicino nel Parlamento, e poi Ignazio è un ticinese con pelle e peli, pelli e pelle, capelli e peli, è spagliato, allora con la pelle e capelli, e vuol dire che lui ha un charm ticinese, allora... Allora si dice tutto d'un pezzo, un ticinese tutto d'un pezzo. Lui è un ticinese di tutto d'un pezzo, allora è veramente un amico, abbiamo lavorato tantissimo insieme, e allora è anche chiaro che se si è lavorato insieme, che si può dire anche una volta una cosa così. Ok, ma adesso riveli qualche segreto politico. Si dice che lei ha lavorato tantissimo per aiutare Ignazio Cassis a essere eletto in Consiglio federale, vero? Che lei si è impegnata per questa candidatura svizzera-italiana, fortemente? Sì, ma per... Io sono presidente di un partito e il mio compito è aiutare ai nostri candidati di essere eletti. E poi si deve anche sapere che negli mesi, quando c'era il posto di Ignazio Cassis, o di Didier Burghalter noi su Besetzin, quando abbiamo dovuto rieleggere qualcuno per Didier Burghalter, era anche il momento del Ticino, perché per ognuno le elezioni, anche dei consiglieri federali, c'è sempre una delle storie che è indietro. Adesso, con le elezioni di Corinne Keller-Sutter e di Viola Amhert, era la storia delle donne e prima era veramente anche la storia del Ticino. E per me, e poi io sono mezza ticinese, per me è anche importante che il Ticino ha di nuovo un consigliere federale. Lei è mezza ticinese, ci racconti qualcosa? Cioè vuol dire di dov'è? Di Lugano, di Mendrisio, di Stabio, della Leventina, di dov'è? No, mia mamma è da Erolo. Ah, e Tifa, non vorrei chiedere qualcosa di indiscreto, Tifa per l'Ambri o per il Lugano? È una domanda, è una domanda... È per Zucco. Ah, 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 ha evitato uno scoglio difficile, perché sa che in Ticino non bisogna mai dire, eh, ho capito. Ha risposto benissimo. Dunque, Leventinese, sua madre. Ok, e il suo nome di famiglia, com'è? Pini. Ok. È una Pini. Ok. Ah, sì. Senta, ma con Ignazio, quando vi vedete, parlate in italiano o in tedesco? O in inglese? No, lui in italiano e io di solito in tedesco. Ok, ho capito. Senta, quanto ha contato per lei come persona questa italianità? Cioè, lei dentro di sé sente qualcosa di questa italianità per il suo carattere, per la sua evoluzione durante l'infanzia e anche dopo. Quanto ha contato come importanza? Eh, per me è molto importante perché penso che io ho una parte della mia mamma che lei è della montagna, tra Airolo, non è lugano, Airolo è in montagna e là la gente veramente che erda. E questo è qualcosa che lo sento anche io. Tradicato. Tradicato. È una cosa che sento veramente anche io. Penso che questa è una cosa della mia mamma. Lei anche, lei non è nervosa, lei non pensa che succede qualcosa, adesso è la fine del mondo e penso che questa è una parte che lo sento anch'io. E poi oggi è anche una delle mie cucine qui, grazie mille, mi fa tanto piacere, anche la famiglia qui in Ticino per me è importante e così anche a vedere come i differenti parti della Svizzera sono veramente differenti e che il Ticino non è la Romandia e la Svizzera interna non è il grigione e tutte queste storie si sente veramente se si ha dei parenti in un altro cantone. Ok. La montagna crea un carattere più combattivo, più forte, più solido perché bisogna andare in altezza, bisogna camminare e si fa fatica. Per lei è stato importante questo per la sua carriera, questa capacità di resistere, di fare fatica per arrivare a un obiettivo. Sì, penso che questo è molto importante perché qualche volta si deve anche vedere che io sento sempre delle voci che mi dicono devi cambiare qualcosa, non puoi fare una cosa così, è sempre così, ma per me io devo solo sapere perché batte il mio cuore e di che cosa sono convinta che è la cosa giusta e dopo chiaramente che devo ascoltare sulle idee che hanno gli altri ma alla fine sono io che devo decidere che cosa voglio fare e questo vuole anche dire che di tempo a tempo si vuole avere un long and out sì un respiro più lungo un respiro più lungo e so anche che non faccio un corso svelto ma faccio un marathon ok ma lei è anche una sportiva no? per me il sport è molto importante a me piace anche tantissimo andare in montagna sì ok forse anche perché se si va in montagna si è in un'altra altezza e là si vede le cose con un altro visto e penso che anche questo è molto importante molto bello quello che lei ci ha detto cominciamo a conoscerla un pochino ma vorrei forse rivelare delle cose che io ho saputo ma lei potrebbe confermarmi le forse per la sua carriera politica il Ticino i ticinesi sono stati importanti cioè mi risulta che un ticinese nato a Campo Vallemaggia che si chiama casualmente Pedrazzini ma Vincenzo che era un politico del Canton Svitto dove lei ha iniziato vicepresidente del partito sia venuto a cercarla per metterla nella scena politica quando lei era giovanissima è vero è vero che c'è questo ticinese che l'ha voluta sì ho lavorato tantissimo insieme con Vincenzo Pedrazzini e penso che è sempre importante che sia una persona che aiuta anche che mostra delle cose che una persona giovane non conosce non sa aveva anche un'altra persona anche un un Urige sì uno del cantono Urano Urano un Urano e anche là era molto importante che Steineger Steineger il signor Steineger non non il signor Steineger lui è oramai di una generazione troppo lui ha già finito con il lavoro in politica quando io ho iniziato ma penso che è veramente importante che c'è qualcuno che aiuta anche che mostra adesso puoi fare questo step disincirito o qualcosa di altro questo passo e che si deve anche portare della front responsabilità della responsabilità e si deve avere qualcosa come un mentor e Vincenzo Petrazzini era un mentor così è stato un mentor per lei ok però allora mi scusi se faccio una piccola sintesi forse provocatoria ma si diceva che il partito liberale svizzero era zurichese tutti zurichesi c'era la lobby zurichese qui è una lobby ticinese perché gossi con una madre ticinese cassis i pedrazzini eccetera il partito è nelle mani degli talofoni adesso il ticino adesso è molto forte adesso è molto forte ok la banostrasse è preoccupatissima sì ma penso che è molto importante che la gente vede che il partito liberale radicale non è un partito zurichese o qualcosa così perché ascolta sempre adesso ancora che gli errori che abbiamo fatto con la Swissair penso sempre ma con la Swissair io non ero quasi un po' esagerata ma non ero quasi ancora nata così è molto importante che la gente vede che noi siamo un partito del popolo noi siamo in città e anche in contadie in campagna grazie anche in campagna e siamo veramente un partito del popolo e non siamo solo i zurichesi della banostrasse ok dunque lei ha dato un contributo anche a questo cioè che è un cambiamento di ottica di prospettiva di presentazione di questo partito magari poi ritorniamo quando tratteremo dei temi che lei sta curando adesso ma ci parli di lei come donna lei ha privilegiato la politica alla vita familiare per per delle circostanze casuali o naturali oppure è stata una scelta politica piuttosto che famiglia com'è andata mi scusi se le faccio una domanda molto personale io sono di una famiglia liberale cioè il mio nonno era nel consiglio dei cantonali ma la mia mamma non ha mai fatto della politica lei era nel gruppo ginnastica e nel gruppo delle donne mio padre ha fatto le cose per per la cultura lui lui era per lungo tempo il presidente del gruppo del Klausjagen e qualcosa molto famoso a Chris Northamrighi lui ha lavorato con i contadini e così per me era sempre chiaro che si deve fare qualcosa noi abbiamo un sistema di milizia e allora è molto importante che ognuno fa la cosa che a lui piace e poi una giornata un amico è venuto e mi ha detto hey Petra il Perler di Kussnacht cerca qualcuno sulla lista per il consigliere cantonale c'era sulla lista c'era solo una donna e hanno avuto bisogno di una seconda donna allora io ho pensato e sì poi tutti hanno saputo che io sono di una famiglia liberale e che a me piace anche discutere e fare la politica allora io ho pensato e imparo qualcosa vado su quella lista e poi sono stata letta così ho incominciato ma non era una scelta non sapevo che è questo che voglio fare ok però se ho ben capito il fatto che lei fosse donna non è stato un handicap per la sua carriera politica no penso che a me ha aiutato perché poi io ho fatto la campagna di elezioni con le altre donne abbiamo scritto una lettera e l'abbiamo mandato a ogni donna nel paese entro 18 e 35 anni e penso che questo ha aiutato tanto perché alla fine noi due donne siamo stati eletti ma per me non è importante se qualcuno è una donna o se è un uomo la cosa la più importante è che qualcuno lo vuole fare e che si sia autentica che si sia autentice sì bello questo quello che lei dice l'autenticità in politica è rarissima è una virtù sì ma penso che è veramente importante lei ce l'ha questa virtù crede di averla sì penso di sì perché io non sono pronta a dire qualcosa ad altro che penso naturalmente come presidente di un partito qualche volta devo anche dire le cose che il partito ha deciso quello è chiaro ma alla fine le decisioni che sono per la mia vita sono sempre le decisioni che voglio fare io e poi si sente sempre se qualcuno non è autentica quello per me è veramente importante anche se si deve fare una discussione nella televisione qualcosa così c'è sempre la gente che è molto forte vuol discutere io sono come sono allora non voglio cambiare e penso che questo è anche qualcosa che la gente sente Sinta secondo lei conciliare delle grandi responsabilità professionali e una vita familiare è possibile perché se ho letto bene i suoi genitori lavoravano tutti e due no? nell'azienda dunque questo tema che è un tema importante per la società è possibile conciliare questi due aspetti? Sì è un tema molto importante i miei genitori hanno lavorato sempre tutti e due cento per cento ma hanno anche lavorato fino a hanno avuto 78 anni e questo era solo possibile perché hanno avuto il negozio nella casa dove abbiamo vissuto e allora quello vuol dire che io sapevo sempre dove sono i miei genitori così non era un problema ma penso la cosa la più importante è che abbiamo il cadre che ognuno può scegliere la vita che vuole insieme con l'uomo insieme con i bambini e questo vuol dire che dobbiamo avere la comportabilità della vita professionale e la vita familiare ecco è chiaro che potremmo passare una serata intera a discutere di questo tema ma lei ha un suo modello ideale per realizzare questo cioè questa parità reale di chance e di contributi fra uomini e donne impegnati sia in famiglia o nella società sia dal punto di vista professionale qual è l'obiettivo verso il quale bisogna tendere in Svizzera per realizzare questo e i punti che per noi sono per il PLR sono importanti sono i punti come dobbiamo il primo punto è che dobbiamo avere abbastanza posti per i bambini quindi in delle stelle e poi è anche importante che abbiamo la individuale steuerung dunque l'imposizione individuale la tassazione individuale grazie e poi anche noi vogliamo che sul punto delle tasse si può dedurre più di soldi perché se qualcuno ha bisogno per lavorare si prende il tempo ma anche per i bambini si prende il tempo è importante che si può fare tutte le due cose allora vuol dire che per lavorare qualche volta si deve dare i bambini anche in una kindertogstätte e perché si può fare questo è importante che si può dedurre i soldi delle tasse si si dalle tasse e poi un'altra cosa importante anche noi diciamo che vogliamo avere un congedo parentale per tutti e due perché adesso c'è una grande discussione sul congedo paternale ma noi pensiamo che questo non aiuta tanto perché alla fine è importante che è tutta la famiglia che può scegliere come vuol fare e non solo che il padre abbia un congedo il padre che adesso deve prendere libero e lui lo deve fare adesso ma è importante che si può scegliere in tutta la famiglia interessante ha sintetizzato la posizione del partito su questo tema in due minuti complimenti in italiano mi permette una domanda probabilmente si aspettava che gliela avrei posta il 14 giugno lei staccherà il telefono e farà lo sciopero sì o no sia sincera autentica no io non vado a fare il sciopero perché no perché penso che io sono anche naturalmente sono anch'io per la parità parità sì per la parità per l'uguaglianza sì e anche che tutti ganano le stesse soldi è chiaro ma penso che è molto più importante che abbiamo la tassazione individuale tutte le cose che ho detto di prima perché se abbiamo la 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 compatibilità la compatibilità della vita professionale della vita familiare questo aiuterà tantissimo di più alle donne perché così si può veramente fare una scelta che cosa voglio fare con la mia vita penso che questo è molto più importante l'altro punto è che penso che dobbiamo avere tanti for builder modelli modelli e così è importante che si vede che ci sono delle donne che vogliono essere alla cima di un partito alla cima di una azienda anche in ansia grazie mille queste cose sono molto più importanti perché le discussioni entro le donne e le uomini non so così se aiuta veramente alle cose delle donne la ringrazio tanto per questa sua diciamo autenticità di questa testimonianza il quadro comunque l'ha delineato e mi sembra chiaro con le indicazioni che lei ha dato ecco sull'uguaglianza sulla parità mi permetto una domanda generale visto che lei è presidente del partito liberale l'uguaglianza è un valore fondante dell'epoca moderna libertà egalità e fraternità e lasciamo perdere la fraternità che è difficile ma l'uguaglianza ci si può battere per l'uguaglianza se questo conduce a meno libertà naturalmente e penso veramente che l'uguaglianza ha bisogno della libertà perché se non siamo liberi non abbiamo neanche l'uguaglianza perché se non siamo liberi c'è qualcuno che mi dice che cosa devo fare se c'è qualcuno che mi dice che cosa devo fare non abbiamo più l'uguaglianza e allora sono dei valori anche per il Perler per il nostro partito che sono molto importanti tutte le due valori e veramente sia l'uno solo se c'è anche l'altro valore grazie 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 di questa precisazione le faccio la domanda classica allora sono necessarie delle quote per garantire l'uguaglianza nella rappresentanza imposti di potere anche imposti di potere non solo di uomini e di donne ma visto l'evoluzione della società di transgender di gay di lingue di razze di ceti sociali di professioni diverse c'è bisogno delle quote per realizzare questa parità sì o no no io non sono per i quote penso che se si vede la Svizzera là è importante che sia una ausgleichenheit entro i regioni entro la Svizzera tedesca la Svizzera italiana una rappresentanza equa sì questo è importante perché siamo un stato con i differenti regioni allora questo è veramente importante ma io come donna se io sarebbe in un in un consiglio d'amministrazione dove tutta la gente sa che io sono là dentro perché c'è una quota per me è veramente veramente difficile essere conosciuta per i miei meriti meriti e che soprattutto i uomini non pensano che io sono solo là dentro perché c'è la quota allora devo essere ancora più di buonissimo più brava che tutti altri e questo è veramente per me penso che questo potrebbe essere un problema ok le disuguaglianze dal punto di vista della ricchezza erano ma sono ancora molto grandi sono un male che bisogna eliminare le disuguaglianze di ricchezza dico che bisogna eliminare in nome dell'uguaglianza oppure ci sono altri sistemi per realizzare questo gleichgewicht per esempio una buona ridistribuzione sociale con delle politiche fiscali eque o altro penso che abbiamo altre possibilità il primo punto è che dobbiamo avere l'uguaglianza quello che ha anche la chance non solo l'uguaglianza ma anche l'uguaglianza di chance di possibilità sì perché tutti che vanno in scuola devono avere la possibilità di passare l'università se hanno la capacità queste sono le cose importanti perché e poi il secondo punto è che abbiamo abbastanza posti di lavoro in Svizzera questo vuol dire che dobbiamo avere una economia forte e anche fortissima se abbiamo tanta gente in Svizzera perché se tutti hanno la possibilità di lavorare questo aiuterà di più perché se incominciamo a fare una distribuzione non equa a suddividere sì a suddividere quello e dopo abbiamo di che far sì il pericolo sì grazie top abbiamo il pericolo che perdiamo dei posti di lavoro e questo penso che veramente noi aiuterà a nessuno ok senta lei ha fatto anche dei lavori molto pratici nella sua vita se ho letto bene nella sua biografia molto semplici non so cucina catering non lo so se è vero e se è così le è servito e cosa hai imparato da questa attività pratica e sì sono anche andata a pulire in un in un con una reinigungsgesellschaft ho pulito ho dovuto pulire tutto un'assienda di pulizie sì ma penso che sono questi i lavori anche in una cucina l'ho veramente imparato a lavorare con pressura con una grossa pressione con una grossa pressione e poi ho imparato anche a parlare con tutta la gente che c'era in cucina dappertutto e questo penso che è una cosa che non si impara se in un'università è molto importante che si fanno anche una volta questi compiti a me è piaciuto tantissimo e poi ho veramente imparato a chiacchierare con ognuno questo oggi mi aiuta se vado in un ristorante io posso sedermi sempre alle stommetische e io comincio a parlare con la gente e poi vedo possiamo anche discutere tutte le cose sì certo il suo profilo non è esattamente quello del presidente del partito liberale radicale zurichese di cento anni fa non esattamente senta avrei voluto chiederle tante cose io per esempio lei parlava di sport ma io ho scoperto che lei c'è uno sport che adora particolarmente e che è lo sport preferito anche del direttore della radiotelevisione della Svizzera italiana ed è Schwingen è vero? Schwingen mi piace tantissimo sì ah sì la lotta svizzera ma perché? io non sono uno Schwingen ma a guardarlo è bellissimo ma anche il direttore della radiotelevisione credo che non lo faccia attivamente va a vedere va a vedere ma perché? questo è proprio la sintesi della tradizione svizzera cos'è lo charme di questo? sì ma i persone che fanno il Schwingen sono veramente atleti non sono più penso che tanti pensano ancora che sono delle persone così e lo fanno con il peso ma è veramente questo penso che è veramente impressionante perché loro lavorano non sono profi sportler devono lavorare e poi fanno anche il training durante la sera perché conosco un paio di queste Schwingen loro fanno il training durante la sera al weekend e veramente loro sono entusiasti dello sport e poi se si è ad una festa ad una Schwingfest la è sempre si può raccontare ognuno che è là è sempre in una è pacifica come manifestazione sì e poi di solito vado alla Schwingfest in montagna la ancora è anche bellissimo guardare le montagne è una bella giornata ma è vero che le fa tutte nel mese di maggio quante ne ha fatte quest'anno elettorale no adesso ho fatto solo uno nel mio cantone dal schweizer cantonale e poi vado sulla righi e poi lunedì al finst montag fra due giorni fra tre giorni abbiamo il Schwingfest sullo Stosk che è vicino di me forse là vado non lo so ancora ma poi ho finito non poi ancora il Eidgenössische Schwingfest a Zucco in agosto quel lato vado anche fantastico tutti noi pensavamo che lei si occupava d'Europa nei prossimi tre giorni invece abbiamo capito che cosa farà che cosa farà mi permetta di terminare questa nostra conversazione con un tema che sta molto a cuore a chi ha organizzato questi eventi cioè quello del servizio pubblico il tema è il servizio pubblico secondo lei un servizio pubblico dell'informazione e dell'informazione televisiva radio è importante e perché se sì è molto importante perché abbiamo una democrazia diretta e quello vuol dire che la gente è informata e non è solo non è solo un made in house che dà le informazioni ma devono essere tante made in house e anche il servizio pubblico è anche uno così e così è molto importante che la gente è informata che può cercare le differenti informazioni dappertutto e che il servizio pubblico è anche un servizio che ci dà le informazioni neutrali o cerca qualcosa che altri non hanno o ha più di tempo perché poi adesso c'è anche un'altra una sfida perché adesso abbiamo per esempio adesso l'ho dimenticato nei mass media dice la digitalizzazione ok e quello vuol dire che dobbiamo anche dare molto più di mezzi di 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 attenzione di attenzione sì grazie sul servizio pubblico ok ecco forse quest'ultima parte lascia capire che però ci sono dei pericoli che bisogna combattere come deve essere un servizio pubblico per combattere i pericoli della digitalizzazione e le derive che questo può implicare dal punto di vista lei ha parlato di neutralità ok dell'informazione un'informazione corretta ok secondo lei la televisione svizzera lo fa è corretta risponde in modo autentico e chiaramente non sempre non sempre perfetto Maurizio Canetta ha preso nota non sempre ok ah ecco ecco è per quello è per quello deve guardare di più RSI anche per il suo italiano che è già ottimo ma così almeno lo migliorerà ancora dei ticinesi prego prego no ma anche il punto che noi per esempio siamo per il per il indiretto media in Bidrock ok per il sostegno indiretto ai mass media sì perché così perché vogliamo che abbiamo abbastanza tanti media in Svizzera e poi si deve fare attenzione anche che il servizio pubblico non può fare troppo non può fare dei pubblicità pubblicità sì perché questo è importante che i case privati possono farlo gli editori possono ok perché anche loro hanno bisogno di ganare i soldi penso che questi sono i mezzi per farlo ok ma poi alla fine è veramente importante che abbiamo la Meinungsfreiheit la libertà di espressione ok e di opinione sì ok dunque questo equilibrio non c'è ancora secondo lei dal punto di vista della legge perché è un tema politico interessante aperto questo sì penso che l'abbiamo ma dobbiamo fare attenzione che non lo perdiamo ah ok perfetto le indicazioni sono state date guardare alla tv però è una libera scelta ma noi tutti dobbiamo pagare il canone e non paghiamo quello che guardiamo è una battaglia che è superata perché il popolo svizzero ha votato ma le sembra giusto da liberale che ci sia una specie di tassa per tutti sì era la discussione con l'iniziativa di No Be Luck e noi siamo stati contro l'iniziativa perché penso che è importante perché abbiamo differenti regioni anche qui è una storia delle differenti regioni e per la Svizzera italiana sarebbe molto più più difficile avere abbastanza soldi per un servizio pubblico che è veramente un servizio pubblico e poi per il per il grigion sì per i grigioni per il romancio per il romancio non sarebbe possibile avere un servizio pubblico per la Svizzera tedesca sarebbe già più facile perché il mercato è più grande e allora io penso veramente che è importante che tutta la gente in Svizzera ha un servizio pubblico nella sua lingua maternale allora questo vuol dire anche che è importante che abbiamo un servizio pubblico che è anche pagato dalla gente non è importante che tutta la gente guarda questo servizio pubblico ma è importante che lo abbiamo perché a una volta all'altro io sono sicura che ognuno di noi ascolta la radio o guarda la tv perché noi tutti dobbiamo avere delle informazioni ok mi permetta di terminare con una domanda ancora personale qualcuno mi aveva chiesto forse un anno e mezzo fa se per me chi sarebbe stato il prossimo consigliere federale dopo Cassis e tutti mi dicevano è la signora Keller-Sutter e io mi ero permesso di dire ma la signora Gussi ha delle reali chance di diventare consigliere federale e poi è stata eletta la signora Keller-Sutter ma lei ha le capacità di diventare consigliere federale come ha reagito all'elezione della signora Keller-Sutter e è ancora disponibile vista che è giovane per la prossima volta se si vuole venire un consigliere federale la vita cambia radicalmente sì radicalmente veramente anche la vita di Ignazzo Cassis perché io ero seduta vicino di lui lui era giugio e queste cose e dopo lui è uscito del Parlamento della Sala e dopo lui aveva una vita veramente cambiata e si deve essere accorto che questa cosa si deve veramente deve essere sono le ocche che devono glizzare quando si parla di questa cosa e se non si ha questo fuoco non si deve farlo e penso che a me non aveva ancora il fuoco non avrebbe più potuto andare allo Schwingen tutte le settimane sarebbe stato impossibile io ringrazio tantissimo la signora Gossi perché ha fatto parlare anche il cuore e la sua autenticità era evidente e credo che è rarissimo avere dei politici a questo livello che sono capaci di fare questo per cui la ringrazio tantissimo di averci fatto partecipare di quello che lei fa e le faccio tanti auguri per la sua carriera futura di persona di donna e di politico grazie mille grazie 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 infinite adesso la parola è a voi la signora Gossi è disponibile per delle domande e eventualmente posso anche aiutarla se ha bisogno prego chi do la parola io non vi vedo per cui perché c'è una luce in faccia prego buonasera grazie mille della presentazione molto interessante io ho una domanda diciamo politica come giovane anche sono preoccupato per la situazione del primo e il secondo pilastro e mi chiedo qual è il futuro non nel breve termine ma nel medio lungo termine di questo appunto di questi due pilastri sì il consigliere federale che in agosto viene con con la boccia con il messaggio con il messaggio per il primo pilastro e poi adesso sono i social partner che discutono il secondo pilastro hanno avuto un tempo per un anno fino avrile nel 2019 ma adesso non abbiamo ancora sentito che cosa è la proposta la proposta sì ma penso che in agosto possiamo discutere tutte le tue pilastri la soluzione per i pilastri insieme ma poi penso anche che il primo punto nel primo pilastro adesso è che i uomini e le donne devono lavorare tutte le due fino a 65 anni abbiamo alcune idee come si può farlo questo sono il si deve discutere ancora ma voglio dire che io penso che è molto importante che adesso facciamo una 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 consultazione o un brainstorming o una discussione che non diamo solo i soldi al pilastro ma che facciamo anche una una riforma una vera riforma ma i passi che facciamo penso che non sono troppo grandi perché abbiamo visto adesso per anni e anni che se facciamo i passi troppo grandi non passiamo più in votazione popolare la votazione allora penso che questo tema ci occuperà ancora per per anni e anni perché il problema diventa più grande più grande perché abbiamo la demografia così è interessante perché la domanda è stata posta da un giovane sì ma è molto importante che la politica adesso troverà delle soluzioni grazie prego ciao ciao petra ieri eravamo a locarno e avevamo con lo stamp tisch e avevamo un'ottima conferenza sul clima c'era il nostro presidente cantonale e io avevo posto la domanda come è la nostra situazione politica verde ora che tu sei qui in due minuti prima hai parlato di un tema politico ci dici qual è il tuo pensiero esatto trasparente sul il diventar verde del partito liberale e già che dico già che ho la parola dico sei la migliore presidente del mondo se ben ricordo Luigi Pedrazzini era a New York quando siamo entrati ufficialmente nell'ONU se avrai bisogno di un mentore per diventare segretaria generale dell'ONU ecco che puoi rivolgerti ancora una volta a un Pedrazzini grazie è molto importante che adesso possiamo dire che cosa è la politica climatica liberale questo vuol dire che io non voglio che facciamo una politica con i ferbotte con dei divieti con dei divieti perché questa è la politica della sinistra io voglio che la gente capisce che cosa è della politica del clima ma anche di tutta l'Umwelt dell'ambiente perché l'ambiente è molto più grande che solo il clima e se non diciamo adesso che cosa sono le nostre idee fra qualche anni avremo possiamo discutere solo sui divieti ok questo non voglio quello detto mostre anche che è importante che possiamo mostrare adesso che la nostra politica è la politica dell'eigenverantwortung poi anche della transparenza perché si deve essere eigenverantwortlich si deve anche conoscere il prezzo delle cose che si fa poi come secondo passo è anche di lenkung di lenkung di lenkung di lenkung di lenkung sì dunque delle tasse di incitamento delle tasse di incitamento ma è importante che si vede tutto il sistema si deve discutere che è il prezzo che si può pagare che la gente è anche disposta a pagare disposta a pagare perché se si guarda la Francia erano esattamente queste domande che alla fine hanno lanciato i gilet giorni ma penso che adesso è veramente il tempo che dobbiamo mostrare che la politica ecologica è anche una politica economica interessante molto sintetico a chi do la parola prego Presidente non mi sentite no appena detto la sinistra circa un mese fa in un appuntamento liberale radicale ha richiamato un po' all'unità all'unione a un gruppo coeso e ha detto non possiamo più essere non possiamo più permetterci di essere divisi tra liberali radicali di sinistra e di destra e come si fa a non essere più divisi come si fa a non essere più etichettati di destra o di sinistra il punto il più importante è che si discute nell'interno e non si discute soprattutto nei giornali perché questo non aiuta nessuno le discussioni le avremmo sempre perché è nella DNA del partito libero dei politici si è politico perché si può discutere le temi ma penso che è veramente importante che non si discute le cose in pubblicità nel pubblico in pubblico è molto importante che si discute durante un'assemblea dei delegati o nella conferenza con i presidenti dei partiti cantonali e là si può discutere ma non non aiuta nessuno se è fatto in pubblico chiara risposta sì l'ancora è un punto se si può discutere alla fine è la maggioranza che decise là è anche il momento quando io aspetto che la maggioranza ha detto qualcosa e anche io non ho sempre l'idea della maggioranza ma alla fine non si dice più niente si accetta anche ad un punto si deve anche accettare l'idea della maggioranza prego a chi do la parola lì buonasera io vorrei tornare sulla tematica femminile due domande brevi la prima lei ha parlato di responsabilità individuale e volevo sapere la sua opinione in fondo si parla molto di pari opportunità molti dicono se una donna vuole può se uno vuole riuscire se una vuole riuscire può diciamo in fondo le donne non sono anche un po' selber schuld di alcune situazioni che possono essere per esempio il consiglio di stato di cinese solo uomini molti consigli di amministrazione solo uomini c'è una responsabilità individuale di ogni donna anche dire di autocensurarsi di non osare di sacrificarsi appena arriva un figlio e dire in fondo mi occuperò io del bambino non dell'uomo ecco c'è questa responsabilità individuale secondo lei e la seconda domanda aspetti vediamo già questa dopo la prossima l'inizio ho capito ma dopo era troppo svelto scusi però dice ha ragione ha ragione le donne non sono non hanno un selber schuld del fatto che invece di fare carriera di richiedere di avere delle responsabilità pubbliche sociali eccetera dicono ma ho dei bambini devo occuparmi dei bambini rinuncio e faccio qualcosa che è necessario fare rinunciando alle proprie ambizioni questa è la domanda la prima è il problema è il fatto della biologia perché sono le donne che hanno i bambini e poi la cosa che io penso veramente è molto difficile è praticamente non impossibile 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 fare il triangolo con la professione con la famiglia con i bambini e della politica perché si vede anche nel consiglio nazionale nei partiti borghesi le donne di solito non hanno i bambini perché lavorano fanno della politica e poi hanno fatto la scelta di non avere dei bambini o non so perché ma non le hanno e se si vede le donne della parte sinistra tante donne hanno bambini ma non hanno una professione a parte della politica se sono politiche professionali professioniste questo mostra veramente anche nel consiglio federale le donne non hanno dei bambini e così penso veramente che il triangolo non è quasi possibile allo farlo e questo si deve scegliere che cosa si vuole fare non è non è bello a dire questa cosa ma penso che se si è veri autentici veri è la realtà ok seconda domanda seconda domanda la scuola elementare la scuola media il liceo sono gratis l'asilo è gratis l'asilo nido invece costa moltissimo in sidera tedesca in particolare anche in Ticino questo è un grande freno per le famiglie lei sarebbe favorevole a rendere gratis anche l'asilo nido gratis l'asilo nido l'asilo nido è la scuola per bambini piccoli piccoli gratuitamente come si chiamano kinder creep di kinder creep sì no non gratuitamente là è il punto dove noi diciamo che abbiamo di stoire abzüge perché la deduzioni fiscali la deduzione fiscale perché che cosa è il derunterschied la differenza qual è la differenza se io ho le deduzioni posso scegliere se voglio avere una nenni se voglio dare il bambino in una crippa o la scelta che cosa voglio fare ma posso deduire i soldi forse non è per tutte le donne la scelta giusta a dare il bambino in una crippa e allora penso anche un'altra cosa importante i prezzi non sarebbero così alti le condizioni le condizioni anche per la gente che lavora non sarebbero così alti perché una volta abbiamo anche discutto se le nonne devono avere una 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 formazione per guardare sulle bambine e questo è impossibile ma mostra che là abbiamo file erosford abbiamo molte sfide grazie mille anche per queste precisazioni molto chiare è un modello il suo molto chiaro e giustificato dal punto di vista dei contenuti prego va bene prego signora l'ultima domanda politica è preoccupata perché i sondaggi danno il piede in calo i sondaggi gli ultimi sondaggi perdete lo 0,3% sì no perché è un è un momento affiname e se guardiamo in febbraio abbiamo avuto la stessa fortezza come l'OPS e adesso il PS ha vinto noi abbiamo perso un po' per me queste non sono le domande importanti perché poi le elezioni sono al 20 di ottobre e fino in autunno succederanno ancora tantissime cose e penso che è veramente importante che si fa una politica consistente che noi facciamo una politica liberale che possiamo raccontarla la gente e se abbiamo un un profile claramente liberale questo ci aiuterà a meister ci aiuterà di più questo di più grazie infinite facciamo ancora un applauso alla signora grazie e do la parola eh come no io ti do la parola prego grazie no adesso c'è il solito aperitivo della Corsi magari la signora voi si è piacere ancora a conversare con qualcuno di voi e un piccolo omaggio da parte della Corsi ci suggerisce grazie mille maronga a Segiglia grazie grazie mille grazie è stato molto bello grazie mille tanti auguri per quello che lei fa e complimenti don't don't do 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 do